Grazie Era alle 15.30 Ci prendiamo un po' di pausa Per un caffè Sì appunto Ci prendiamo una pausa per un caffè Quindi non Non se ne va a fortuna 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 Chi? Eh vabbè ma cazzo Cioè allora ragazzi Se ne va a via Se ne sta andando via Forse la dorazza Cioè almeno questa è più Cioè faccio questa Randi Randi Avvocato Cioè all'anserutto Cioè quindi L'aspetto è presto di qua Cioè comunque Premesso questo poi Rispondo al telefono Quando la chiamano Non faccia Non faccia il superbo No Stamattina E due Due Cosa fate? Andate? Cioè la facciamo In tranquillità La seconda Sessione del consiglio Eh? La facciamo la seconda sessione Con tranquillità Eccetera Eh? Qualcuno Dai Qualcuno Dai Almeno Certo Ormai Tanto L'oggetto della lotta Passare Io devo andare a mettere qualcosa Nello stomaco Perché se no ragazzi Mi sta girando la testa C'è un certo erario Ragazzi No E voi I miei problemi Fisici Allora questo lo lascio collegato Poi questo Poi poi E che Poi Cioè O Poi 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 Grazie a tutti